Ciao a tutti e stellevo qui ExynCosal che parla e oggi siamo qui con un nuovo video Allora, non so se avete già visto il video precedente Quello lì dove, addio tra parentesi Però ci sono dei problemi perché il video non l'ho ancora caricato E poco tempo dopo che l'ho messo, ho finito di... Cioè ho finito di caricarlo su Youtube Se il mio PC si rompe, quello fisso, sì Quindi i file di Pokémon Snakewood, i file di Dragonstone, di altre robe Photoshop, tutte quelle cose lì, tutti i dati di salvataggio sono tutti andati a puttane Quindi io non ho più un cazzo Se non ti poco giochi qui che ho scaricato su Steam oppure devo riscaricarmi tutto Quindi boh, volevo chiedervi Cosa volete che faccia? Cioè adesso sto facendo questo qui Molto... giusto per avere qualcosa sotto Ah, per chi interessa il gioco è Eternal Senia Un gioco fatto con RPG Maker Eh, sì Lo provate gratis su Steam È bellino le... Le musiche sono bellissime La storia è molto... Come posso dire? Molto... Cioè non è tutto sto granché però è bellino Il sistema di combattimento mi piace Semplice Piuttosto rapido da capire E questo, sì, è il boss finale Vieni qui, va No Shit, i danni che fa In hard mode È la prima volta che faccio l'hard mode Quindi roba del genere Via No, no, no No Ecco Odio questa skill Vai Se non distruggiamo i cristalli qua Ok Ah, c'è anche l'animazione Mica l'avevo vista Dove è andata? No I danni che fa Eh, però ti ho fatto un critico, eh Ti piacciono sti critici? Dove cavolo sei? No Ecco Dai Prendi Meno uno Ah, ha usato l'agility app Bene Trenta danni al sec... Cioè manco al secondo Por... Vieni qua, va Dai, vieni qui Colpito Per fortuna che questa skill Oppila Tipo Una ultimate Se fosse Ma allora sono il coglione Ecco Vai Bastarda Come... No Via Vai Vai Dove... Dove... Shit Shit Oh Dio Oh Dio si No 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 Fatta 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quindi si Mi stavo creando un po' Perché so cosa mi aspetta adesso E quindi non volevo fare una figura di merda Sembrando un completo idiota Morendo subito Ehm... Allora Quindi mi stavo chiedendo Cosa volete che faccia? Cioè... Volendo potrei tipo Scaricarmi Snakewood qui E ricominciarlo da capo Fino a che non arrivo al punto in cui ero adesso Però non posso Cioè Sarebbe troppo Per me Ci vorrebbe un casino di tempo Però ovviamente se voi volete Avete piacere di vedere la fine Ve lo dico Perché comunque la fine lo farò comunque Ma... Lo... Me lo porterò Cioè Lo farò più avanti Quando avrò finito tutto Poi Altre cose Ehm... Come si... Cos'è che si chiamava? Sì Stavo dicendo Eh... Oppure volete che tipo Inizio la nuova Chrome Che volevo Fare Cioè Perché a me Mi basta scaricarle Completamente nuove E anche bellina Molto bellina E quindi Sì Cioè Decidete voi Questo è il fottutissimo Boss finale Che non sono mai riuscito a battere in hard mode È bastardissima È bastardissima Bastardissima No, no, no Salva qui Bene Cioè Che Che Perché Cioè Cosa siamo Su Toe Pro Ecco Via Sono morto Game over Vabbè Vabbè Comunque no Se ve lo chiedete Non porterò una serie Su Eternal Al Segna Cioè Ci stavo pensando Perché mi piace Però è troppo corta E non l'ho ancora finito al 100% Quindi Sì Vorrei evitare Quindi scrivetemi sotto nei commenti Cosa vorreste che vi porto Quindi Adesso vediamo con un prossimo episodio Ciao a tutti